Buongiorno ragazzi siamo qui nel primo video del mio primo canale adesso sono Rale Ruschetti e qui c'è Bride Junior e stiamo spiegando un trucco per Empyre Allen su un gioco di Facebook che molte persone conosceranno e questo trucco qua si chiama? non mi ricordo bene il plugin però comunque si chiama EAABot ed è molto utile per Empyre lo usiamo adesso per conseguire unità gratuitamente vi metto il link di descrizione e cominciamo a spiegare un po' come funziona dovete aprire l'EAABot con l'amministratore facendo esempio come amministratore fa vedere come si fa adesso l'abbiamo già aperto perchè Camtasia lagga di brutto non ci facciamo spiegare e cominciamo facendo Start ok ecco adesso è un po' difficile che non lo conoscete perchè comunque è molto famoso questo programma però vi spieghiamo come si usa intanto vi faccio vedere un po' le unità che c'ho ma è così useremo il profilo di Alex Bruschetta perchè ha incominciato cos'è? un po' di tempo cioè ho appena cominciato ok usare il bot e è indietro anche di livelli e ha pochissime unità non potrei farvelo vedere sul mio perchè comunque sono 85 le unità ce le ho quasi tutte e andiamo facciamo prima su quello di Bruschetta si è andrà a sto computer perchè è un computer di? merda a ecco eh bra parca che ce le so ce le è dietro del bot ce le è dietro alla pagina mi chiamata lagga va 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 questo video qua utilizziamo in勝ese perchè fraps non va avevi problemi e niente ragazzi massimo prossimo video lo farò con fraps adesso abbiamo problemi col pc abbiamo cos'è windows 7 no windows 8 e niente se volete potete anche cambiarla la foto che c'è di sfondo fate un po' come volete beh e non potete vedere stanno uscendo le iscritte loading configuration sta configurando il vostro impero e ricordiamo ragazzi che quando siete su empire è sconsigliato utilizzare il bot perchè comunque vi fa aggiornare dopo che l'avete usato è meglio se lo usate in home però comunque se lo volete usare mentre state giocando poi vi fa aggiornare perchè le stelle continuano a succedere perchè non capivi perchè ecco come potete vedere il gioco sotto sta lagando il botone potete vedere potete vedere qua non si è ancora caricata la pagina ecco qua e niente va benissimo ok adesso questo qua è quello che voi avete nel vostro impero e per il bot è molto importante questo il vostro zid e il vostro fbd che sono i dati del vostro bot ecco fai adesso questo qua qua vi mostra quello che avete voi e poi quando e una volta che il botto ha finito andiamo su plugin manager adesso noi abbiamo già aperta questa qua che è il plugin che utilizzeremo per la unità adesso lo chiudiamo poi lo riapriamo così vi spieghiamo bene apriamo tutto il bot e vi faremo vedere bene come si usa ok allora questi qua sono chiamati plugin perchè non li conosca noi per ora useremo questo lo attiviamo e il plugin dovrebbe apparire qua sopra ecco come avete visto questo qua serve per le unità dobbiamo aspettare un po' che si carica perchè il computer è meraviglioso no ragazzi perchè stiamo usando il Camtasia e appena c'è perchè io fraps ce l'ho però non riesco a registrare quindi cercherò di registrare questo prima qua più presto perchè mi sapete io? ma che ne so perchè è un computer? eh beh chiudi 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 guarda qua che roba tutto da solo ragazzi sta facendo computer apri yahoo poi il bot si apre chi se ne frega chi sono se persone non riconoscono allora no raga aspettiamo un attimo magari però ci chiederemo il video ok ok questo qua è l'impero del mio di alex bruschetta potetevi vedere non va non va no no va no non va ma si che va non va allora rimpiccioliamo il botto perchè vai dio dal minimo si è anche aperto chiudi sta merda dimmi ahahahah ahahah ma va a cagare va ok allora si fottiti allora bene come potete vedere questo qua è l'impero non ve lo facciamo vedere perchè sta laggando come un maiale vedete che adesso ho tipo qua dei vedete le unità le unità le sta sono griffin che facciamo vedere nell'inventario o meglio nello specifico tutte le unità che abbiamo ecco come potete vedere è qualcosa che già si è fatto ecco qua giriamo pagina ecco qua potete vedere che è un po' impossibile avere al 28 queste unità qua facciamo vedere le navi la marina cos'è sta cosa che merda assurda ecco potete vedere questa questa queste qua 1100 1350 poi escono stronzate assurde no questo qua cos'è aspetta aspetta intanto vi spieghiamo un po' il bot che sta lavorando ok perfetto si è aperta la pagina allora vi spieghiamo come funziona mi spieghiamo come funziona allora innanzitutto facciamo active e qua mettiamo su warzone c'è il corpo eeeh shikia do gazzà no deve mettere shiki fin warzone si è già messo ok a posto deve essere su warzone no a posto qua selezioniamo just l e qui mettete lo zid di un amico no perchè come potete vedere e questo qua lo zid c'è pure scritto eeeh questo qui è diverso da quello che c'è qua e ho messo il mio di 6 junior porca vacca no vabbè vabbè chi se ne frega si è salvato no vabbè chiudi eeeh poi sotto vabbè eeeh che cacchio chiudi vabbè aspettate chiudiamo e rifiamo perchè si è cancellato scrivimi quanto è veloce e vabbè e poi sotto c'era allora sotto bisognava bisogna mettere il lo zid del il vostro in pratica e dall'altra parte quello di un amico adesso vi facciamo vedere continuiamo a far vedere l'impero se si sarà caricato l'impero ok eccolo qua eeeh chiudiamo perchè è lì chiudiamo non si chiude fidati no allora adesso si chiude io mi succederò qui da telefono allora eeeh se volete contattarci qui da facebook mettiamo sotto i nostri siti facebook il nostro profilo facebook eeeh adesso non svegliamo i nostri nomi reali sveglieremo dopo intanto si capiscono già dai nostri cosi cosi si eeeh molto grandi vabbè ma si dai nostri tag eeeh eeeh come potete vedere adesso vabbè sta caricando però comunque le unità ci sono 20 mene da 25 alla volta se noi schiacciamo si vai tanto poi senti vai vai simpatica allora qua il botto non so no no grazie eeeh cantante e' s soprattutto perché prima di così non ho aperto cance se non ci sono tantasia il botto va u modulo facebook va però su aspettate per me aprire un altro luci in madonna oh ah si era strana che problemi ha che handicapato siamo al massimo ragazzi questo video è quello che facciamo un altro apps eh un altro video ancora non va un cazzo ok 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 a posto si è aperto alleluia si è aperto e ok raga ci siamo finalmente allora qui mettete lo zed di un vostro amico no 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 qua mettete lo zed di un vostro amico qui sotto qua selezionate qua selezionate qui mettete il vostro qua ci sono tutte le unità a noi le t9 non le fa le t9 sono le unità potenziate adesso andiamo giù fino in fondo e questo qua sono tutte le unità presenti ora nel gioco quelle potenziali ecco questa qua ad esempio è una t9 non le fa perchè per sbloccarle bisogna avere unità come ad esempio la chimera ma comunque t9 che si copra proprio punti e pare niente lo chiede la seconda cosa ecco 710 o 720 punti e pare non mi ricordo che selezionate selezionate allora no aspettate un attimo noi per far funzionare selezioniamo ad esempio qua e mettiamo 5 5 solo 5 potete mettere dall'1 al 5 ma noi vi consigliamo 5 cosa succede? perchè no staria aggiornando noi ve ne consigliamo 5 perchè da 5 poi me ne darà 25 se invece ne mettiamo 1 prenderà 6 non so non ci ne fate io preferisco averne 25 che averne 1 intanto ok vedete se si è riavviato perchè ok posto selezioniamo qua potete fare quante unità volete ehm non mettiamo questo vabbè tanto mi mettiamole più forte per il 2003 se ne freva spero lo gioco 2004 no troppo se andiamo in centro dai che sono un po' schifo però dai 2002 a caso eh perchè non so che in inglese li fanno vabbè 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 lasciamo queste fin d'ora no 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 una bingana è questo qua 1000 che cazzo no la mettiamo 1300 questa mi piace 366 questa anche mettiamo la mia questa anche ok perfetto adesso una volta messo i 5 le parti salviamo che c'è scritto qua sotto se lo facciamo save setting ehm c'è anche qua sotto ma se volete eee ehm c'è anche più in alto in cima guardate ok perfetto c'è anche qua in cima adesso noi vi consigliamo se l'avete appena scaricato di mettere qua 999 perchè vedete che il bot parte da solo a volte adesso fermiamo no il bot parte da solo a volte è un errore allora mettendo 999 non parte più è una specie di trucchetto per risolvere i problemi abbiamo già salvato qua salviamo un'altra volta tanto per e aspettiamo che si carichi ecco perfetto una volta caricato andiamo su main poi in alto e che c'è un stato ok box andando perfetto tanto che lavoro e noi torniamo sul nostro il vero qua e vi consigliamo di andare in home perchè comunque mi fa aggiornare vedete come potete vedere queste unità ne ha questi qua potenti adesso andiamo in home ok andiamo in home perchè ok come vi ho già detto prima l'immagine è qua potete cambiarla se volete perchè la procedura non è facile però è così qua come potete vedere sta ancora facendo la stessa cosa e qua sta guardando cosa volete voi ecco adesso qua va bene noi abbiamo già nell'inventario abbiamo già queste unità qua che ve le segnano con il codice ma ve le dovrebbe fare lo stesso andiamo su main ecco come potete vedere le sta già facendo 5 10 15 adesso ne abbiamo 25 nell'inventario la stessa cosa con questi questi qua ne abbiamo già 24 e 25 però ve le fa lo stesso abbiamo selezionato quelle che abbiamo già fatto ma chi serve tanto per riaverle ok queste qua non ce le ha dopo vi farò vedere potete farlo quante volte volete quanto volte volete poter fare anche 500 mila volte volete adesso vi spiegherò un po cosa farò nel mio canale farò di tutto di tutto allora se non farò dei video con di giochi per xbox li farò con la conta con la compatta c'è con la bio canela come è o con tablet e poi magari più avanti se riuscirò mi prenderò il campo l'incaptured ok come potete vedere sta salvando l'inventario l'inventario di unità che avete avete niente è qua tutto qua adesso aspettiamo perché è molto lento come pc potete vedere siamo su facebook e questo qua è è tutto potete vedere qua stiamo già lavorando 3 su 5 2 su 5 e nell'inventario ci ne troveremo 25 come prima qua parte tutto da solo vabbè ripeto che le t9 a me ma credo a qualsiasi a qualsiasi giocatore di empire a meno che non abbia già sbloccato qualche t9 con i punti empire t9 sono le unità potenziate come ad esempio questa con la nuova oppure vediamo questa o queste non non le da a meno che non le abbiate già sbloccate e qua è molto lento molto molto lento ecco perfetto ha ha finito basta che dice botte finito ecco perfetto lo potete avere ha finito adesso andiamo su il nostro facebook e andiamo su e poi se volete potete chiuderlo ma non fa niente chi se ne frega tanto così chiuderlo così ok chiudiamo il botte perché qua uno schifo così a meno lagga lagga ma lagga di meno io questa caricando bene aspettiamo ecco questo qua bot magari nel prossimo video vi farò vedere come sarei il team viber team viber è il nuovo programma un nuovo non mi ricordo non so però è molto importante perché si può entrare nel computer di un'altra persona aiutandolo ad esempio nei trucchi di un'altra persona non riconosce per bene ok sta entrando nei prossimi video vi faremo vedere altri ad esempio come mettere i plugin nel bot oppure come salire di livello aspettiamo che si carichi molto veloce lo ricordiamo in un razzo cioè proprio cioè se tu lo guardi dici più veloce del mondo è il più veloce il quadro della NASA mi insega vabbè vi faremo ah si giusto vi faremo anche vedere come acquistare minerale al mercato gratuitamente molto utile nel gioco sto caricando abbiamo la pagina vi presenteremo anche nelle prossime nei prossimi video un altro programma per i trucchi che però adesso non funziona perché la zinga la creatrice di questi giochi empire giochi diversi ha tolto trucchi rimanenti come si chiama questo il programma è questo qui adesso ve lo mostreremo chat engine chat engine allora dove è no facciamo la finestra no la posta non la posta la finestra ma che devo faccio solo vedere che vuoi velocissimo no 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 ecco questo qua programma non lo mostreremo adesso perchè lagga troppo non lo mostrano sì proviamo no no troppo di merda troppo lento no troppo lento con chat engine si possono fare trucchi anche diversi ad esempio aumentare la velocità di internet noi abbiamo mozilla possiamo anche aumentare la velocità di mozilla faremo vedere in altri video e dopo faremo video pauroso di slender gioco di paura si perchè se lagga così con questo che sta con slender poi faremo anche fallout 3 ragazzi trucchi fallout se no vi faremo anche vedere come come vabbè lasciamo perdere andiamo nell'inventario faremo vedere le nuove uscite dei giochi vabbè cosa c'era anche prima mi ricordo cosa abbiamo fatto un po' non so non mi sa che sono qua niente delle nuove no avremmo fatto qualcosa non mi ricordo sono tutti inglesi quelli più alti in inglese ecco non è il nuovo questa qua questa qua ci è andata solo una perché qualche volta fa stranzata assurda è già pieno aspetta adesso una parte ma che c'ho è espandito il territorio non c'ho avanti di libertà tutto pieno come potete vedere si può benissimo posizionare sul territorio si si va si va ma andiamo ma così dai dai posiziona perfetto perfetto ok ritorniamo alimentari faremo facciamo vedere la 30 che abbiamo fatto qua non mi ricordo questo non so 20 minuti questa nuova si può la nuova questa nuova probabilmente questa nuova probabilmente gliene ha fatte solo una perché è bassissimo di livello questo qua è un uomo deve dare 25 ha fatte molto potenti questo qua è nuova molto potenti in unità andiamo su l'aereo magari ha fatto qualcosa altro mi servivano allora questa qua nuova questa qua nuova nuova tutte sopra al 20 sono tutte nuove eccolo 1440 potenziato 1440 il venome non potenziato come potete vedere davvero questo qua questo qua qua ma guarda 10GB ma si indichiamo un po' di tutto come potete vedere molto forti questa vita vabbè niente non è finito ecco questa qua è tutta la spiegazione se volete contattarci contattatosi mettiamo il link in descrizione e noi abbiamo finito ci vediamo un prossimo video ciao ciao bella bella ciao 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 ciao